ciao a tutti sono alessandro lazzarelli e oggi mi trovo in una sala da tè a pechino questa sala da tè che si chiama yuexi xianglin si trova nel quartiere hutong il quartiere dove sono state preservate le vecchie abitazioni della città questa sala da tè molto particolare perché in stile zen che è un ingresso molto sobrio per cui bisogna conoscerla perché poco vistosa dall'esterno quando si entra però si inizia subito a respirare questa atmosfera zen si sente subito anche un po per la musica un po per l'aredamento che hanno utilizzato è veramente un ambiente particolare che si sposa proprio con la cerimonia del tè con la degustazione del tè oggi ho ordinato uno shampoo vedete mi hanno portato anche un po di frutta qui ci si può sedere tranquillamente e versare che possono scegliere le teiere che più si preferisce a seconda del tè che si ordina qui ci sono dei libri e qui è dove sono seduto io qui ci sono anche delle chincaglierie stile cinese vari tipi di tazzine questa è un'altra saletta come vedete ci sono altri posti per la degustazione del tè all'aperto faccio un altro tavolo un'altra saletta interna e qui ci sono le statuette con l'altare dei buddha a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.